Presentata nell'ultimo Consiglio Comunale una mozione da parte di Casa Civica per vietare il fumo in tutti i parchi, in tutte le aree verdi di Roseto degli Abruzzi. Sì, diciamo intanto un ringraziamento a Gabriele Recchiuti, nostro segretario, a tutto il gruppo di Casa Civica, in modo particolare al gruppo Ambiente e Territorio e al gruppo Giovani che hanno curato questa mozione. Un piccolo segnale per un grande valore, quello della salute, quello del rispetto dell'ambiente, quello della salvaguardia di valori fondamentali di vietaro di fumo in zone dove si possono trovare bambini e donne incinta. Sappiamo che il fumo passivo è causa di circa 85.000 morti l'anno nel nostro paese, questo è un dato molto preoccupante. Sono molto soddisfatto perché il Consiglio Comunale Tutto ha accolto con grande interesse la nostra mozione, tant'è che c'è stata un'ampia discussione. Personalmente, a seguito di questa discussione, ho scelto, in maniera credo anche responsabile, di ritirare la mozione per permettere al Consiglio, che si è impegnato, e l'ho messo a verbale nell'ultimo Consiglio, moralmente e pubblicamente, a lavorare un regolamento che non solo vieti regolamenti l'uso e la possibilità di fumare o di non fumare in queste zone che abbiamo appena descritto, ma di ampliarlo ad altre zone, come per esempio le spiagge. Tanti comuni italiani, nonché il nostro vicino al Badriatica, hanno scelto già da quest'anno, quindi sono stati più lungimiranti rispetto alla nostra amministrazione. Noi come opposizione abbiamo pungolato, abbiamo ottenuto una discussione, abbiamo voluto aprire e ho scelto di ritirare la mozione perché avremmo forse vinto in maniera parziale questa battaglia. Il nostro obiettivo di opposizione costruttiva non è vincere in maniera parziale, ma di portare all'unanimità su una tematica così importante. Torniamo a un altro tema attuale, un tema scottante di Rossello degli Abruzzi, debito fuori bilancio e nuovente scontro tra maggioranza e ovviamente opposizione tutta. Sì, diciamo che abbiamo negli adeguamenti e negli equilibri di bilancio, sono stati portati il 31 luglio dei debiti fuori bilancio importanti, uno su tutti, quello del CIRSU. Circa un milione e duecentomila euro che ereditiamo da gestioni passate. Noi il mio voto contrario ovviamente alle quattro di notte, quindi anche in quel momento motivato in maniera molto semplice. Oggi mi sento di poter dire una scelta scellerata, quella all'ora di uscire in maniera di entrare in un contenzioso. Giulianova, ricordiamolo, ha transato e forse ha fatto la scelta migliore, di isolarsi politicamente già undici anni fa. Oggi ritrovarsi con una causa di primo grado persa in attesa dei gradi successivi, ma soprattutto con una spada di Damocle che ci ha obbligato a riconoscere tale debito. Io penso che la politica abbia un altro compito, che sia quello di valutare le scelte migliori e soprattutto prima di entrare in un carrozzone come fu fatto allora, che era quello del CIRSU, bisognava forse studiare e leggere meglio le carte.